...di palladini, tra palladini di forza, due appezzari e poi lo caccio di attenzione, rischiato all'armi, anche in questo caso ho fatto bene, ma non è riuscito a cacciare il pallone dopodiché ha subito il parlo, giustamente ha usato affischiando la turistica. Il direttore di gara ha usato perché ha atteso, allora la norma del battaglio, però non abbiamo le più di forza due appezzari palladini, poi in attenzione, fondi in barbiera, allora giugia anche Sturba, tutti agli altri... Abbiamo ovviamente sconsolatissimo Cecchini, dice come si fa a prendere un gol così, si fa se hai Califano che la mette dentro di volo, davvero, ma guarda, ma guarda di... ...di palladini, sconsolatissimo Cecchini, dice come si fa a prendere un gol così, si fa se hai Califano che la mette dentro di volo, davvero, ma guarda... ...di palladini adesso, Scurba e Pogli, dentro quello del grosso, secondo pallo, Califano con sinistra, no, prende, venga la fronte Califano, ...cai con l'inforzo, califano, 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 califano...